Cari amici di Radio No Frontiere ben ritrovati, siamo qui alla Feltrielli di Piazza dei Martiri in compagnia del mitico James Enese. Ciao James. Ciao a tutti. Allora, siamo qui per la presentazione di questo nuovo disco insieme ai Napoli Centrale Osang. Che disco è questo qua rispetto a quelli che hai fatto insieme ai tuoi che leghi chiaramente nel passato? Ma è un disco pieno d'amore, è un disco che fa riflettere su quello che è la nostra società in parte, la nostra società che non funziona da 50 anni a questa parte. Due, è un disco da mettere sotto il cuscino e da farti pensare il giorno dopo che bisogna reagire in questa società senza farci portare i sentimenti. No, infatti, quindi è un disco che deve scuotere nell'animo? Sì, l'abbiamo fatto appunto per questo, c'è molta religiosità in questo, nel senso che io credo che l'unica chance che noi abbiamo è quella lì di reagire in questa società, reagire e anche pregare effettivamente poi una parte del Signore che può darci la giusta lucidità su quello che noi dobbiamo essere. Insieme tu hai avuto modo di collaborare con tanti artisti di grandissimo calibro come chiaramente sei tu, ci sono anche i tuoi colleghi che hanno segnato una generazione come per esempio anche Enzo Avitabile, ecco per le generazioni future qual è il consiglio che vuoi dare? Cioè, non lo so, per suonare il sax serve questo o non lo so, ecco, chi vuole fare musica e che cosa vuoi fare? Ti dico questo, che per comunicare con il popolo in generale, parlo universalmente parlando, cioè bisogna fare la cavetta, bisogna veramente amare la tradizione come l'abbiamo amata noi, ma non tutto è subito, capito? Sì, perché tutto è subito, non nascerà mai niente, noi siamo quelli là che appunto, io sono 50 anni che sto ancora qua, ma perché sto ancora qua? Perché ho sempre amato una parte della mia tradizione, da dove vengo, da Napoli, e nello stesso momento ho sempre trattato quello che era a difendere appunto noi, i più deboli, capito? Certo, per quanto riguarda invece gli appuntamenti, per quanto riguarda i concerti, c'è il prossimo del 21 maggio, qual è il consiglio che dai a chi verrà ad assistere al tuo concerto insieme a Napoli Centrale? Ma noi siamo un gruppo che sta avanti di 3.000 anni, luce, no? Voglio dire, quando ci ascolteranno sentiranno come, è come vedere appunto un disco volante che scende e poi non lo vedi più, no? Però in questo momento noi siamo quel disco volante che scende giù e rimarrà giù, capito? Perché finalmente una parte del popolo sta recependo il nostro messaggio, no? Ed è un grande messaggio, decisamente James, io ti ringrazio e un saluto ai nostri ascoltatori di Radio No Frontiere Io vi saluto, non mi ricordo come si chiama, Radio No Frontiere Vabbè, l'hai detto tu, benissimo, vi saluto, un grande bacio Grazie James